L'amministrazione comunale uscente voleva vendere i GASPA. Il Consiglio Comunale saggiamente ha sospeso questa decisione. Se noi andremo alla maggioranza garantiremo invece la sospensione definitiva di questa decisione perché ci interessa che IGEA rimanga nel patrimonio del Comune. Per quale motivo? Perché IGEA non è soltanto le farmacie, IGEA è la società dei servizi alla persona e garantendo il fatto che sia l'uno che l'altro ramo dell'azienda rimangano all'interno del patrimonio comunale possiamo offrire ancora più servizi ai nostri cittadini, possiamo fare in modo che le farmacie diventino un punto di erogazione di servizi sanitari, possiamo fare in modo tale che la solidarietà diventi concreta. Questa per noi è IGEA SPA, questi sono i motivi per cui vogliamo che questa società che è totalmente partecipata dal Comune di Treviglio sia la società dei trevigliesi. Grazie.